Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovi video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video al mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty. Il canale ufficiale di Call of Duty ha rilasciato il primo trailer dedicato al terzo DLC di Call of Duty Black Ops 3 dedicato alle mappe multiplayer. Se vi siete persi quello zombie lo trovate sul mio canale YouTube. Ha rilasciato quindi il primo trailer dedicato a una delle quattro mappe che troveremo nel DLC Descend che vi ricordo arriverà il 12 di luglio su PlayStation 4. Potremo vedere in azione una preview della mappa Empire Remake della mappa Ride di Call of Duty Black Ops 2. Sembra veramente tutt'altra mappa però se ben ricordate come era strutturata Ride è proprio Ride però con una visione completamente diversa perché questa classica mappa è stata abbinata al sistema di movimento di Black Ops 2 ed inoltre è stata ambientata nell'antica Roma. Infatti troveremo un'autentica villa romana ricreata da un miliardario eccentrico. Quindi sarà veramente molto interessante vedere come giocheremo su questa mappa perché su Ride era tutto focalizzato al centro il gameplay e quindi l'azione della partita multiplayer. Vedremo se con i nuovi movimenti anche su Empire accadrà la stessa cosa. Rivedere la mappa Ride di Black Ops 2 in versione romana secondo me è qualche cosa di fantastico. Se vedete le immagini, gli esterni, l'acqua, i dettagli, i monumenti, le statue, le ville, è qualche cosa di bellissimo. Posso dire con certezza che è la più bella mappa di Call of Duty Black Ops 3 anche se non l'ho ancora giocata. Sarà che sono di Roma, sarà che Roma è veramente capos mondi ma questa mappa è qualche cosa di bellissimo e non vedo l'ora di provarla il 12 di luglio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime informazioni del mondo di Call of Duty. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.